di Fabrizio che ringraziamo anche perché è il primo che avevamo intervistato ed è abbastanza convinto di correre bene con Dark Street e anche con Life Extension adesso qui ci sarà la cerimonia della prevenzione, noi ci spostiamo ovviamente vediamo se andiamo, ecco abbiamo la fortuna di avere Franco Castelfranchi qui vicino a noi che però adesso i cellulari, questi cellulari, vediamo che cade la linea, ecco è caduta la linea, meno male Franco Castelfranchi siamo in diretta con gli amici che ci seguono nelle agenzie ipiche abbiamo questo collegamento, siamo un po' tutte le ipiche a minuto per minuto da un campo principale allora una cavalla italiana intanto che ha vinto bene, cavalla italianissima, un acquisto credo della fattrice gravida, siamo solo più contenti ecco ci siamo glorificati noi puri dell'allevamento ma adesso i nostri amici bisogna dargli almeno dopo questa glorificazione dell'allevamento italiano almeno due vincitori secchi